ciao ragazzi buonasera a tutti io voglio fare questo video difficilmente io faccio video parlando di di certi personaggi no però mi è arrivato all'orecchio la voce di un video che è stato fatto e prima io non credevo non credevo a quello che mi stavano dicendo e mi hanno detto gianni vai a vedere vai a vedere e io sono andato a vedere sono andato a vedere nel canale di claudio giuliani claudio si chiama claudio peggio di giuliani comunque giuliani allora io le cose che ho visto le cose che ho sentito dalla bocca di questo questa sottospecie di tifoso juventino mi hanno veramente veramente mi hanno mi hanno rabbrividito è una cosa una cosa io io posso capire che tu sei un venduto alla società posso posso capire di tutto va bene tu sei il servo della società juventus sei il direttore se lo sei ancora non lo so neanche se lo sei ancora di juventus di j tv però quando io ho sentito dire a quest elemento perché tu sei un elemento da spiaggia giuliani tu sei un elemento da spiaggia tu vai bene a guarda con tutto il rispetto che per anzi tu non vai bene neanche fare il bagnino stavo dicendo che va bene a fare il bagnino ma non vai bene perché il bagnino è un lavoro oltre che dignitoso di tantissima responsabilità e che deve intervenire al momento giusto perché si parla di vita di persone quindi ritiro ritiro questa cosa del bagnino tu vai bene forse 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 ecco a fare il raccattapalle non da che delle palloni da calcio ma quelli da golf te vai bene lì andrà a prendere le palline a buttarti nei laghetti quando le palline vanno nei laghetti tu servi solo a questo tu serve a questo perché uno che mi viene a dire uno che mi viene a dire che la juventus i giocatori della squadra di del neri sono più forti dei giocatori della squadra di oggi solo esclusivamente perché tu devi difendere una specie di allenatore va bene perché te lo dice la società tu sei vergognoso tu sei veramente la vergogna del tifo juventino ma come fai ma come fai io ho visto che c'era anche toselli lì che che gli ha detto che non era praticamente assolutamente d'accordo su quello che stavi dicendo tu insistevi e gli ridevi pure dietro dice ma ma io non ci posso credere non ci posso cadere dove sei arrivato tu per difendere massimiliano allegri sei vergognoso sei vergognoso ma come fai a dire certe cose ma la juventus di del neri era più di più forte della juventus di massimiliano allegri solo perché devi devi difendere questa società di incapaci perché sennò prendi il licenziamento perché se tu parli contro vieni licenziato come tu ci mangi dei soldi ma non venire su youtube a rompere il cazzo vai alla j tv e fai quel cazzo che vuoi non ti permettere ma non ti permette ma che cazzo dici tu e galeone tu e galeone smettetela non ci capite nulla di calcio non ci capite nulla ma come fai a dire queste cose come fai a dire queste cose ma veramente la vergogna delle vergogne sei sei veramente vergognoso io io quando l'ho sentito quando mi hanno mandato il messaggio mi ha detto giuliani questa sarà poter risparmiare già stamattina ho sentito quella di galeone no che anche lui anche lui per difendere il suo cocco bello no deve sparare puttanate a nastro galeone ma chiuditi quella bocca chiuditi quella fogna e stai zitto ma che stai dicendo ma che state dicendo basta difendere questo elemento qua la dovete smettere non potete continuare continuare a difendere ma come fate a dire certe cose ma la vergogna ma la vergogna dove ce l'avete ma io non ci posso credere io non ci posso credere per difendere massimiliano leghi dove cazzo siamo arrivati vergognati giuliani vergognati addirittura tu hai attaccato tutta la curva perché si è permesso di fischiare una prestazione indegna ma chi sei ma chi sei tu ti ritieni tifosi della juventus tu non sei tifosi tu sei schiavo della juventus tu sei servo della juventus giuliani servo della juventus pagato dalla juventus pagato per dire stronzate smettila e rispetta i tifosi rispetta i tifosi e non dire che noi siamo stati io sono stato sono stato noi no io nel senso io tifoso che non guadagno nulla spendo e basta per la juventus perché caro giuliani io le partite le pago io i biglietti allo stadio li pago io le magliette li pago invece tu oltre che c'hai biglietti gratis partite in tv e perché le guardi nel tuo studio del cazzo e magliette gratis eccetera eccetera sei pagato della juventus vergognati giuliani vergognati vergognati tu ti devi vergognare gente che si fa centinaia centinaia di chilometri per andare a vedere uno schifo del genere tu ti permetti di contestarli sei vergognoso e poi dici che siamo rimasti in pochi quando siamo andati in serie b noi abbiamo portato la juve in serie a io ho fatto l'abbonamento a sky mentre tu andavi nei salottini della tv a guardarti le partite vergognati vergognati giuliani tu e galeone vergognatevi tutte e due galeone tu intanto fatti i cazzi tuoi e stai zitto capito perché per difendere questo questo tuo amichetto del cazzo stai sparando puttanato e già non ne sei mai stato nessuno nel calcio adesso stai dimostrando perché non sei stato nessuno ma tu giuliani non ti devi permettere di dire queste cose non ti permettere non ti permettere pagato della juventus schiavo della juventus pagato 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 vergognati 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 giuliani